Vi do una novità, non è una novità importante, è pur sempre una novità che riguarda il nostro paese, l'Italia. Da come infatti riportato sul web, quindi su internet, sembra proprio che l'attuale presidente del Consiglio, Mario Draghi, il 10 maggio 2022, che vi ricordo sarà martedì, si legherà dall'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, ossia da Biden, quindi alla Casa Bianca di Washington, sarà un incontro forse finalizzato a cercare di capire quelli che saranno gli scenari futuri di questo conflitto tra Ucraina e Russia, Russia versus Ucraina, e magari cercare anche di raccogliere idee per quel che si può, sperando che ovviamente tutto vada a normalizzarsi e che tutto vada a finire quanto prima, anche perché non se ne può davvero più. Europa continua a essere, diciamo così, vittima di questa guerra, ma la stessa Ucraina è vittima più di reattre per colpa di questa Russia che vuole accentrarsi e accentrare sempre di più dominare la scena economica e del paese, chiamato Ucraina. Da Narodino di Italia è tutto, Draghi dunque, Mario Draghi da Biden, il 10 maggio 2022, il 10 maggio mi ricordo che sarà, niente, poco di meno, che martedì, martedì 10 maggio. Da Narodino di Italia è tutto, iscrivetevi un interno, ciao a tutti.